Il fenomeno dell'abuso sessuale sui minori è un fenomeno assolutamente molto diffuso, diffuso un po' in tutte le fasce sociali, in tutto il territorio indifferentemente. Una seduta congiunta delle commissioni cultura e welfare del comune tenuta nella sala Nugnes di Via Verdi è stata occasione per discutere sul fenomeno del turismo sessuale sui minori alla presenza di esperti e rappresentanti delle istituzioni. Il dibattito è promosso dalla consigliera Elena Coccia, presidente della Commissione Consigliare Cultura ed ha visto tra gli altri la partecipazione della regista napoletana Ilaria Borrelli che alla prostituzione minorile ha dedicato il film Talking to the Trees. Talking to the Trees è un film che è stato proiettato alle Nazioni Unite, è stato distribuito in Francia e in America, adesso arriva in Italia e parla appunto di questa terribile tragedia della prostituzione infantile. Si parla di 40 milioni di minori nella prostituzione a livello mondiale e solo in America del Nord perché nessun paese è esente da questo fenomeno. Anche i nostri paesi ricchi e civilizzati non sono assolutamente esenti purtroppo a questa tragedia. Solo in America del Nord si calcolano 600.000 minori nella prostituzione e un dato recente dell'Interpol, l'Interpol parla di 250.000 bambini scomparsi in Europa e quando scompaio un bambino in Europa o è per prostituzione o per traffico d'organi. Penso che sia una necessità della Commissione Cultura affinché tutti quelli che vi partecipano non solo vengano messi a conoscenza ma che il Comune nella sua gestione, nella sua amministrazione, eccetera, voglia in qualche modo prendere posizione e effettuare degli atti sotto forma di delibere, sotto forma di qualsiasi azione che tenti a contenere tale fenomeno. Candidato al Davide di Donatello e già vincitore di numerosi premi, il film vuole mettere in luce un fenomeno dai caratteri raccapriccianti e molto diffuso di cui si parla troppo poco. Ci vorrebbe innanzitutto una grossa campagna di sensibilizzazione su questo problema che ho l'impressione che è più sia poco noto e soprattutto è un fenomeno del quale poco si vuole parlare. Forse fa veramente troppo male parlarne. Quindi ci vorrebbe sicuramente una campagna di sensibilizzazione anche a livello di operatori sociali per l'individuazione di quelli che possono essere i segnali che un minore può mandare di disagio che possono nascondere un problema di questo tipo.